Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una mua e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Devo andare a fare un paio di commissioni tra cui portare anche il mio cagnolino dal veterinario per un piccolo controllo, niente di che. Avevo voglia di girare un video Get Ready With Me, visto che è un sacco di tempo mi sono accorta che non giro questa tipologia di video. Sarà un make-up molto veloce, molto speedy, anche perché tra 40 minuti circa devo uscire. Vi aggiornerò su quelli che sono i prodotti che sto utilizzando in questo periodo e sono tutti già prodotti che avete già visto, a parte il mascara forse. Ho già fatto skin care, come potete vedere la mia pelle sta avendo dei piccoli sfoghi di brufoletti. Sono andata a fare oltretutto la pulizia del viso la scorsa settimana e devo dire che il risultato è stato molto bello, anche se sto notando che sta buttando fuori un pochino di impuretate e che si è leggermente dissecata soprattutto qua nella zona del naso, ma un pochino il cambio di stagione, un pochino i trattamenti che l'estetista mi ha fatto, penso che sia assolutamente normale. Sono già andata a fare quella che è la mia skin care e sto finendo un sacco di prodotti raga. Oltretutto tra due giorni parto per un piccolo weekend al mare, quest'anno purtroppo non mi posso permettere particolari ferie e settimane al mare, ma quest'anno abbiamo deciso di fare giusto quattro giorni in una regione al mare qua vicino a noi e andrà così, ecco. Potrò sicuramente concentrarmi meglio sul canale. Vado ad utilizzare il fondotinta di Deborah Milano, lo Skin Booster con vitamina C, fondotinta in siero, vado a shakerarlo perché è una tipologia di fondotinta molto liquido e trovo che per oggi vada bene questa tipologia di prodotto. Vado a metterne un pochino sulla mano. Io non so se ve l'avevo già detto ma adoro questa tipologia di prodotto. Vado a prendere un pochino la Beauty Blender, questa qua è stata appena lavata ieri, anche se vi dico sempre che la Beauty Blender meno si usa, meglio è. Vado giusto a dare una passata molto leggera di fondotinta, giusto per uniformare un pochino l'incarnato. Ultimamente vi dico la verità, col caldo tendo ad utilizzare meno i prodotti come fondotinta e BB cream, ma piuttosto preferisco utilizzare magari anche per una questione di velocità i fondotinta in polvere. Dovendo appunto questa settimana passare per Milano, ed è praticamente il punto in cui trovo Sephora più vicino a me, almeno per comodità questa volta, sono intenzionata ad andare ad acquistare un fondotinta in polvere sicuramente, e siccome voglio puntare su una buona qualità e quindi so già che mi costerà un pochino, voglio assolutamente andare a vedere quelle che sono le colorazioni, le shade dal vivo, perché non voglio assolutamente dovermi ritrovare ad avere un prodotto con una colorazione sbagliata. Come vedete non va particolarmente a camuffare quelle che sono le mie imperfezioni in questo momento, ma a me sinceramente ragazzi mi importa poco in questo momento, perché voglio che la mia pelle sia abbastanza uniformata e radiosa soprattutto, voglio proprio un effetto di pelle sana e questo prodotto mi dà l'effetto di pelle sana, mi piace molto, non è esattamente della mia colorazione di pelle in questo momento, perché mi trovo un pochino bianchiccia, non ho avuto molto modo di prendere sole e non amo particolarmente gli autobronzanti. Spero di riuscire a prendere un pochino di sole durante queste ferie e vi dico già ragazzi, preparatevi, preparate i vostri dispositivi, perché tra qualche giorno mi metterò e girerò assolutamente un video decluttering che avevo girato quest'inverno, ma non ho fatto abbastanza man bassa, perché mi sono resa conto che nella mia makeup collection ho dei prodotti assolutamente e veramente vecchissimi che vanno eliminati, li ho tenuti tanto per affetto, li ho tenuti tanto per una questione anche economica, perché comunque non mi va di continuare ad acquistare rossetti per me, ma mi rendo conto che veramente sono vecchissimi e alcuni sono anche prodotti che forse non esistono nemmeno più e mi rendo conto che è ora che vanno tolti. E quindi preparatevi a un video decluttering della mia makeup collection, ma anche del kit makeup, perché come sapete le makeup artist devono stare molto attente alla scadenza dei prodotti, soprattutto quando le persone ti pagano per avere un servizio e per quanto riguarda me voglio dare un servizio che sia di una qualità eccelsa. Ho aperto anche la mia pagina Facebook, cosa che penso intanto vado ad applicare il Bear With Me di NYX, il solito correttore che sapete che è la mia garanzia, lo vado ad applicare un pochino col dito qua sotto e intanto vi voglio far vedere la bellezza e la luminosità di questo fondo che è bellissimo. Ora lo vedete un pochino luminoso, ma va a perdere un pochino questa luminosità col tempo, non del tutto ovviamente, perché il suo concept è proprio quello di essere un fondo glow e luminoso ed energizzante, ma comunque va a settarsi, non rimane diciamo vagante sulla pelle del viso. Oltretutto ieri sera in... non in noia, ieri sera in disperazione stavo cercando una protezione solare giornaliera per il viso perché come sapete la Seba Clear protezione 50 di ASWR non va bene per la mia tipologia di pelle, è troppo pesante, io ho bisogno di consistenza leggere e sono andata a puntare tutto praticamente su una protezione solare di Frudia, ve la lascio qui, questa qui è apposta per la mia tipologia di pelle che è missa e grassa e ho letto le recensioni, sembra essere molto molto interessante e l'ho pagata relativamente molto poco, 10 euro per una protezione solare è pochissimo e spero di aver fatto un buon affare. Nel mentre vado ad utilizzare la colorazione numero 3 dei blush, super blush di Deborah Milano sempre ed è il Fard Effetto Naturale con Estratto di Magnolia Revitalizzante, colore bellissimo, adattissimo per questa primavera estate, ormai quasi estate, perché qui sono due giorni ragazzi che finalmente è arrivato il sole e sono felicissima. La profumazione è deliziosa a base fiorita e vado a mettere un pochino di prodotto. Questi blush ragazzi sono fantastici, sono dei blush pigmentati ma comunque di scrivenza modulabile, nel senso non vi trovate magari il pagliaccio baralli in 30 secondi ma sono dei blush di facile costruzione nella pigmentazione. Guardate come sono carini, danno subito l'effetto sano, bello e il blush sinceramente era uno di quei prodotti che non ho mai calcolato più di tanto, sbagliavo e guardate che bellezza. Trovo veramente molto molto carino questo tipo di prodotto e vi dicevo non avendo tanti soldi tra vacanze e parecchie spese che avrò nel mese di giugno che non vi sto qua di elencare per noi ovviamente sono andata un pochino sul risparmio economico perché avrei sinceramente voluto investire un pochino di più nella protezione solare ma trovo che 10 euro per quel prodotto poi oltretutto frudia ho provato le maschere ne ho una proprio qua io adoro le maschere di frudia trovo che il rapporto qualità prezzo sia ottimo le recensioni erano buone e ho detto perché no proviamo il blush è meraviglioso questo prodotto come vedete in cialda in cialda sembra molto più intenso come colore poi vedete che indossato è quasi un effetto molto naturale ecco oltretutto questi blush ragazzi hanno una durata pazzesca veramente io li indosso anche in condizioni di lavoro sono a lunghissima durata voglio andare a toccare ma leggermente dare un po' di colore agli occhi perché ultimamente sto facendo dei make up veramente noiosissimi e sono andata a ritirare fuori questa matita holly eye pencil 04 del brand we make up che ultimamente non vedo più girare ed è di questa bellissima colorazione blu sono delle matite estremamente morbide perché sono morbidissime e vado a bordare la parte sopra del mio occhio in estate mi piace molto devo dire andare ad utilizzare delle matite colorate poi oltretutto questa non è particolarmente sparaflesciante sarà un make up veramente semplice ragazzi non voglio girarvi un video di 80 minuti e come sapete in armocromia questo tipo di colori funziona veramente molto bene oltretutto vi segnalo che se più o meno sapete che tipologia di di stagione armocromatica siete we make up questo brand ha creato a modicissimo prezzo veramente il dei dei prodotti dei kit già preparati per voi nel senso io non sono pagata in nessun modo per fare per fare questa per dirvi questa cosa è una cosa che vi dico spassionatamente se vi dovesse interessare se voi state cercando degli ombretti delle matite dei rossetti adatti ai vostri colori alla vostra tipologia di stagione armocromatica we make up ha creato già pronte dei prodotti dei kit dei pacchetti ha già creato per voi dei pacchetti a modicissimo prezzo su le tonalità che meglio vi donano quindi magari andate a dare una sbirciatina anche là se vi dovesse interessare e io in armocromia inverno ho acquistato questa matita qua blu che non è un blu particolarmente fluo ma è un blu abbastanza profondo come potete vedere ed sono delle matite molto molto buone ultimamente mi sto rendendo conto che faccio veramente tanta fatica a trovare delle matite sfumabili morbide ad esempio io mi trovo benissimo con queste qui di seffora ma sono delle matite waterproof le matite waterproof fanno veramente molta fatica ad essere sfumate in modo omogeneo mentre delle matite classiche normali sono decisamente più sfumabili e più malleabili e sto proprio facendo fatica a trovare questo genere di prodotto l'unico prodotto nuovo che ho da mostrarvi oggi è il nuovo mascara di Astra il nuovo mascara il mascara che è uscito relativamente qualche mese fa di Astra ed è il First Reaction Volume che ho visto che ho visto recensito abbastanza bene io l'ho già provato mi sono già fatta un'idea di questo prodotto lo scovolino come potete vedere è uno scovolino fatto tipo ad albero di Natale molto simile a quello di Essence il Lash Princess la forma è quella ma le setole sono di un materiale simil silicone abbastanza rigido non rigidissimo ma abbastanza rigido e come potete vedere la formula è abbastanza densa vi faccio vedere l'applicazione del prodotto è un bel mascara vi dico la verità non è un mascara che non mi sta piacendo per il prezzo che ha inferiore agli 8 euro fa un ottimo lavoro però vi devo dire la verità io sono già andata a piegare le ciglia in precedenza prima del video per darvi un'idea le mie ciglia sono delle ciglia vi ripeterò sempre già buone di partenza ma questo mascara trovo che vada un pochino ad appiccicarle non so se riuscite a vedere dà un pochino l'effetto ragnetto se messo in modo eccessivo ma è un bel mascara me lo sto indossando volentieri mi sta dando delle buone soddisfazioni trovo che più che volumizzante sia un mascara incurvante perché io adoro gli effetti ora in questo momento vedrete più la matita si dà del volume ma io sono abituata più a degli effetti di cicciosità delle ciglia nel senso che a me appicciano quei mascara che vanno a pettinare molto bene a dividere bene le ciglia ma allo stesso tempo distribuiscono in modo uniforme il prodotto e quindi vadano ad inciccionire e a infoltire otticamente le ciglia non possiamo assolutamente negare che questo sia un brutto prodotto perché come potete vedere sbavam le ciglia ci sono ma voglio testarlo ancora per beneno devo dire che se gli dovessi dare un voto gli darei un 7 mentre il mio mascara preferito del momento è quello di Rimmel ve lo lascio qui che per me ha un nome impronunciabile quello è veramente un ottimo prodotto va proprio a dare l'effetto che vi dicevo non inciccionisce particolarmente ma pettina e incurva benissimo le ciglia sono super disciplinate e in ordine e quello mi sta piacendo tantissimo come ultimo prodotto sulle labbra giusto per dare un tocchino di vita in più visto che è mattina vado ad indossare sempre lui il beyond jelly di nabla colorazione sempre la stessa nocturna questo bellissimo violaceo che questo bellissimo violaceo berry che devo dire fa sempre la sua sporca figura forse un pochino scurato per forse un pochino scuretto per per questo makeup rimane un pochino indietro rispetto ai colori un pochino più diciamo sgargianti e vitali avrei magari messo un rosa un po' più fluo diciamo che riprendesse il blush però devo dire niente male questo qui ragazzi è l'effetto del makeup super veloce che abbiamo realizzato oggi insieme andrò dopo sicuramente a mettere un pochino di cipria qua solo sulla fronte la solita cipria di sephora che sto finendo e questo qua è l'effetto che cosa ne dite vado a mostrarvi la ripresa come al solito alla luce naturale fuori e per questo video è tutto spero di non avervi annoiato anzi di avervi portato un po' di compagnia se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace come supporto gratuito iscrivetevi al canale se vi va se non vi va don't worry al prossimo video ciao